Un anziano pensionato di 71 anni è stato scoperto morto nella sua casa di Ancona in uno stato avanzato di decomposizione con il calendario murale aggiornato fino all'estate del 2018. Vivendo da sole senza parenti in città, il fratello, residente a Roma, ha dato l'allarme dopo anni di assenza di contatti. Dopo invanni tentativi telefonici il fratello si è recato di persona ad Ancona, citofonando senza risposta e ha poi chiamato il 112. L'intervento dei vigili del fuoco della croce gialla del 118 ha rivelato che il pensionato era deceduto in casa probabilmente a causa di un malore nel sonno con l'ipotesi che il decesso potesse risalire a diversi anni prima, nonostante nessuno si fosse accorto. Non sono emersi segni di violenza con la casa chiusa dall'interno e in ordine. Nonostante le apparenze di morte naturale, il pubblico ministero ha ordinato un'autopsia per chiarire le tempistiche del decesso con ulteriori indagini sulle utenze legate all'abitazione. Grazie a tutti.